Buongiorno a tutti. Sono dispiaciuta di non essere con voi oggi a Cagliari, ma purtroppo questo periodo è denso di attività istituzionali e oggi sarò con il commissario per la cultura Navracic a Matera, dove inaugureremo l'anno di Matera, capitale europea della cultura. Sono lieta di portare il mio saluto e il saluto della rappresentanza in Italia della Commissione europea che ho l'onore di rappresentare e di dirigere a questo importante convegno che riflette su dei temi cruciali in questo momento per il futuro della nostra nazione, ma anche per il futuro chiaramente dell'Europa e dei cittadini europei. Ringrazio in particolar modo il nostro Europe Direct, presso la regione Sardegna, per il lavoro straordinario che sta facendo nel territorio. È un lavoro importantissimo perché in questo momento di grandi incertezze e di grandi sfide è importante far capire che l'Europa non è Bruxelles, non è lontana dai cittadini, non è qualcosa di diverso, ma l'Europa è sui territori. L'Europa siamo noi e siamo presenti nel quotidiano delle persone e soprattutto siamo noi a crearla, a co-crearla con i cittadini degli altri 27 Paesi europei. Quest'anno, come sapete, è un anno di sfide incredibili per il futuro del nostro continente. Abbiamo per la prima volta un Paese che esce dall'Unione europea, con tutte le incertezze che questo comporta, la Brexit. Abbiamo per la prima volta un'elezione del Parlamento europeo, quella di fine maggio, del 26 maggio 2019, che si gioca in modo politico, in modo chiaramente decisivo per il futuro dell'Unione, non solo come riflesso della politica nazionale. Infine, abbiamo dei grandi rinnovi attesi in tutte le istituzioni chiave dell'Unione europea, con il rinnovo della Commissione, quindi dell'esecutivo, del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta i governi, ed anche il Presidente della Banca centrale europea, quindi leadership europea, che verrà profondamente rinnovata in questo 2019. Siamo a un punto in cui facciamo anche il bilancio della Commissione Juncker, il bilancio di quello che siamo riusciti ad ottenere. Abbiamo messo sul tavolo, abbiamo portato a casa, delle vittorie importanti. Pensate per esempio al nuovo regolamento per la protezione dei dati personali, che ci rende così speciale, che rende l'Europa un posto dove fare business ha anche un volto umano e a dimensione di persona. Pensiamo anche ai progressi che abbiamo fatto in tema di copyright, in tema di agenda digitale, digitale, anche il nuovo approccio che abbiamo dato a tutto il rapporto con i Paesi in via di sviluppo e soprattutto con l'Africa. Ma purtroppo restano molti dossier, molte riforme importanti che non sono state ancora concluse. E su queste riforme che la Commissione attuale, la Commissione Juncker, farà uno sforzo incredibile di qui a maggio per cercare di portare a casa dei risultati. E penso in particolare alla riforma del diritto d'asilo, al cosiddetto regolamento di Dublino, ma non solo, a tutto il pacchetto che guarda ai rifugiati e al diritto d'asilo in Europa e alla politica migratoria. Su questo mi permetto di ricordare, per esempio, tra tutte, la proposta della Commissione di avere una guardia costiera e di frontiera permanente di 10.000 persone, di 10.000 effettivi, che possa intervenire in tutti gli Stati membri laddove c'è bisogno. Abbiamo anche delle grosse riforme pendenti nel campo ambientale e in tema digitale, ma soprattutto, e qui vado a toccare uno dei temi chiave del vostro convegno, il vostro incontro, per quanto riguarda il pilastro sociale. Il pilastro sociale lo abbiamo dichiarato a novembre 2018 a Gothenburg per la prima volta dopo 30 anni, quindi anche questo è stato un successo, ma a questo punto dobbiamo riempirlo di contenuti, dobbiamo dargli spessore e significato. Ed è questa la sfida proprio forse più grossa di oggi. Rendere questa Europa è un'Europa più sociale, più coesa, più vicina ai suoi cittadini. In questo senso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che ho l'onore di dirigere, quest'anno cercherà di essere molto più presente nelle periferie, di essere più presente nelle zone rurali e nelle zone meno popolate, dove forse il messaggio dell'Europa non giunge con la stessa forza che nelle grandi città. Abbiamo lanciato anche insieme al Parlamento europeo una grande campagna istituzionale, che è la campagna Stavolta Voto, per spingere e incoraggiare i giovani soprattutto, che ne sono protagonisti, ad andare a votare alle elezioni europee e a dire qual è il loro futuro, a pensare, immaginare, tornare a sognare l'Europa che vorrebbero. Questo è molto importante in un momento in cui c'è chi potrebbe pensare che la risposta alle grandi sfide attuali, alla migrazione, alla globalizzazione economica, alla povertà crescente, possa essere quella di tornare indietro, quella di rimettere le lancette al contrario e tornare a chiuderci nei confini nazionali. Ma non è così invece che possiamo in un mondo globalizzato rispondere in maniera efficace alle sfide di oggi. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere insieme, perché soltanto in questo modo l'Europa potrà essere una protagonista degli anni a venire e delle sfide globali che ci attendono ancora. Ulteriore ammirari, dicevano gli antichi, guardare al futuro. Guardare al futuro è importante per dar senso al nostro presente. E con questo auspicio che vi auguro un lavoro fruttuoso in questa occasione e soprattutto spero di poter venire presto in Sardegna per portarvi anche la mia presenza e la mia vicinanza in modo molto concreto. Buona giornata a tutti.